Ebbene, proseguiamo il nostro tour lungo le zone della città per far vedere ai nostri cittadini come si trova la situazione di Vercelli in questo momento. La scorsa settimana grande successo per i servizi e indicazioni dove proseguire. Partiamo in questo nostro appuntamento con la zona Santa Rita e le zone limitrofe con Corso Avogadro di Coregna e l'inizio del viale della Rimambranza con le strade laterali. Qui dicono che le pulizie vere e proprie da quando è venuto il Papa che non le fanno più. Comunque andiamo a vedere com'è la situazione. Grazie a tutti. Proseguiamo nel nostro cammino lungo le zone della città segnalate dai cittadini. Adesso siamo in piazza Bersaglieri d'Italia di fronte all'ex poliambulatorio e naturalmente l'attuale piasta di Vercelli. Qui una piazza dedicata ai bersaglieri e nei dintorni vediamo la situazione. Grazie a tutti. 100 metri più in là piazza degli Alpini che è stato un punto di riferimento per le celebrazioni al 25 aprile ed ora vediamo situazione di semafori. Alperi e panchine e zona tutto inerente al circondario naturalmente. Ecco qui proprio non si può contestare nulla perché c'è un semaforo in mezzo al verde e sta proprio bene. Finalmente un po' di ecologia. Grazie a tutti. Anche un water un po' più in là del semaforo. Peccato che è girato il contrario. Quindi la gente i bisogni dove li fa? Vicino, non dentro il water. Ma siamo per strada comunque. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.